Scusi ma lei chi è? Lei chi? Lei! Lei è la moglie! Ma non lei! Lei lei! Lei è la moglie! Lei è la moglie! Lei è il tuo sito e io sono il mio medesimo! Ma mi dia pure nel te! La commedia che presentiamo si chiama Questa della Meta, è una commedia che è stata premiata a livello regionale al Festival di Varano come primo premio ma anche altre manifestazioni quindi è una commedia divertente che ci ha dato una grande soddisfazione noi speriamo che la gente venga a vederci perché è già stata proposta qualche anno fa qui ma l'hanno rivoluto hanno rivoluto proprio questo tipo di commedia e noi speriamo che ogni volta che la facciamo è diversa perché noi siamo amatori e amatori quindi non è che seguiamo dei copioni in maniera molto rigida e quindi ringraziamo ancora una volta chi ci ha invitato a questa manifestazione Ora vado in ufficio a stendere il rapporto! Sì sì, lei stendo il rapporto! Che me lo stendo voi come ne riva adesso!